Cominciamo quindi a introdurre le quantità vettoriali presenti nel moto parabolico. Allora, non speventiamoci dal grafico perché è una cosa molto semplice, rappresenta ancora il video che ho fatto vedere precedentemente. Un corpo che viene lanciato dalla posizione viola con una velocità di modulo V0 arancione con un certo angolo, poi percorre una parabola e arriva in determinanti punti finali. Allora, una cosa importantissima, ragazzi, è questa. Il punto finale, che è il punto verde, non è detto che sia il punto in cui arriviamo sull'asse delle X, perché dipende io cosa vi chiedo. Se vi chiedo l'altezza massima, ovviamente il punto finale sarà questo. Se vi chiedo la gittata, ovviamente il punto finale sarà questo. Se vi chiedo invece dopo tre secondi il punto dove si trova, io non è detto che siamo sull'altezza massima o su una gittata, quindi sarà un punto qualsiasi di cui poi troveremo le informazioni. Quindi attenzione che il punto finale non è sempre il punto in cui arriviamo sull'asse delle X. Quindi il punto finale sarà questo se io vi chiedo l'altezza massima. Sarà questo sicuramente se io vi chiedo un'informazione sulla gittata, quindi quando arriva a terra. Mentre potrebbe essere anche un punto qualunque. Il vettore nero ovviamente rappresenta il vettore velocità finale, che ovviamente è strettamente collegato alla posizione finale. Il vettore giallo invece, l'accelerazione, l'abbiamo già detto, come ha fatto, no? Non ha componente orizzontale e ha solo componente verticale uguale all'accelerazione di gravità. Nel nostro caso, meno 9.8. Possiamo quindi, adesso, scrivere le leggi che regolano il moto parabolico. Sono veramente molto semplici. E sono queste. Riprendendo con i colori le quantità precedenti, Allora possiamo dire che il vettore posizione finale è dato da il vettore posizione iniziale più Un termine legato alla velocità iniziale quindi la velocità iniziale per il tempo più un mezzo per il termine di accelerazione per t quadro. Questa è una legge che voi avete già visto. S uguale a S0 più V0 T più mezzo a t quadro ma forse non in questo modo con questa forte accezione vettoriale. Invece per quanto riguarda la legge della velocità allora la velocità finale è data da il vettore velocità iniziale più un aumento dovuto all'accelerazione. Ecco ragazzi questa è l'unica legge che noi dobbiamo sapere per risolvere il moto parabolico. Quindi vi prego di segnarvela bene perché se voi sapete diciamo a memoria questa relazione voi sapete fare tutti i problemi di moto parabolico. Ecco ci siamo pronti per fare il nostro primo problema. Quindi noi lancieremo la nostra palla di cannone da un'altezza di 12 metri con un angolo di 35 gradi rispetto all'orizzontale con una velocità iniziale che in modulo fa 15 e dovremo trovare la gittata. Cominciamo quindi a schematizzare il nostro problema che si fa esattamente in questo modo quindi il pallino viola rappresenta la posizione iniziale se noi vogliamo la gittata doveva mettere il pallino verde sulla posizione finale quindi sul pavimento abbiamo disegnato in arancione come sempre il vettore velocità iniziale di modulo 15 angolo 35 gradi l'altezza iniziale è 12 metri l'accelerazione è sempre costante. Quindi come possiamo vedere la legge l'unica legge che ci serve è questa scritta in questo punto in alto a destra è una legge vettoriale questo cosa vuol dire che la prima cosa che dobbiamo fare è scrivere quanto fanno questi vettori possiamo andare in ordine allora il vettore S0 ha una componente orizzontale e una componente verticale che è data dal problema perché il punto S0 ha come x e come altezza 12 andiamo avanti con le cose iniziali allora la velocità iniziale è un vettore e come componente orizzontale come componente verticale se andiamo a ripassare i vettori la componente verticale è il modulo di v0 per il coseno dell'angolo con l'orizzontale mentre v0 y è il modulo di v0 per il seno dell'angolo cosa vuol dire che andando avanti con i conti e in questo caso sostituendo ricordando che il modulo di v0 è 15 e l'angolo è di 35 allora qui viene 15 per il coseno di 35 gradi e qui viene 15 per il seno di 35 gradi adesso noi prendiamo una calcolatrice e possiamo calcolare quanto fa 15 per il coseno di 35 approssimando sulla terza cifra decimale quindi 12 punto 287 metri al secondo mentre se facciamo 15 per il seno di 35 gradi otteniamo 8 punto 604 metri al secondo che sono esattamente le componenti questa è v0x e questa è v0y e noi le sappiamo entrambe andiamo avanti con i vettori che conosciamo io conosco anche il vettore accelerazione perché il vettore accelerazione è sempre lungo le x 0 e lungo le y meno 9.8 metri al secondo quadrato poi cosa conosciamo anche allora per quanto riguarda la posizione finale noi conosciamo qualcosa perché mentre la posizione iniziale la posizione lungo la x è incognita anche perché se io chiedo la gittata ovviamente una nostra incognita sarà sx la posizione finale come altezza è a 0 questo è importante quindi se noi dobbiamo trovare la gittata la cosa veramente importante è porre l'altezza finale uguale a 0 poi cos'è che ci manca dal punto di vista di descrizione vettoriale la velocità finale allora noi della velocità finale in realtà non sappiamo proprio niente quindi vx è incognita e vy è incognita cioè di questo vettore nero non sappiamo né la componente orizzontale né verticale e poi non sappiamo il tempo come possiamo vedere come deve succedere in tutti i problemi di moto parabolico noi dobbiamo avere 4 incognite e noi ce l'abbiamo perché le 4 incognite nel nostro caso sono sx sono vx sono vy e è il tempo quindi in questo caso noi con il nostro modello riusciamo a trovare sx e riusciremo a trovare vx vy e il tempo ovviamente per trovare 4 incognite abbiamo bisogno di un sistema a 4 non spaventiamoci perché noi abbiamo tutti gli strumenti per farlo e perché adesso noi questo sistema 4 lo imponiamo subito e come si fa? allora questo è importante la prima riga dà un'informazione sulla posizione ma la domanda è ma lungo le x o lungo le y? eh la risposta è sia lungo le x sia lungo le y quindi questa prima riga in realtà diventa una prima riga sulle x e una prima riga sulle y adesso noi quindi ci mettiamo gli occhiali delle x e guardiamo le quantità solo con la x della posizione questo cosa significa? che adesso io scrivo la prima riga ma solo con le x quindi dovrei scrivere sx allora domanda io sx ce l'ho o no? non ce l'ho quindi devo mettere sx poi adesso dovrei mettere s0x s0x fa 0 quindi ce lo metto e fa 0 poi v0x ce l'ho? sì v0x fa 12.287t poi poi ax ce l'ho? sì ax fa 0 quindi dovrei mettere più un mezzo per 0t quadro adesso possiamo scrivere la legge sempre 1 della posizione ma lungo le y allora abbiamo sx 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 fa 0 uguale a abbiamo s0y si s0y fa 12 poi abbiamo v0y si v0y fa 8.604t più un mezzo che moltiplica abbiamo ay si ay fa meno 9.8t quadro adesso avete già capito che anche queste due righe diciamo anche questa riga vettoriale sulle velocità diventa importante e bisogna proiettarla sulle x e sulle y allora quindi qui avremo vx che non conosco uguale a v0x che fa 12.287 più ax che fa 0 per t mentre vy è uguale a v0y che è 8.604 più ay per t quindi capite che bisogna saper ragionare con i pedici x e y ovviamente è un discorso vettoriale adesso una volta saputo fare questo sistema siamo a cavallo perché in questo sistema ci sono quattro incognite che sono sx che sono il tempo vx e vy allora non ho segnato il tempo perché in realtà adesso noi dobbiamo pulire questo sistema togliendo tutte le cose che fanno 0 ad esempio questo 0 qui è completamente inutile quindi lo togliamo perché dà solo fastidio e anche questo un mezzo per 0 per t quadro visto che fa 0 lo togliamo qui ovviamente qui a sinistra non lo togliamo perché è da solo possiamo anche toglierlo sulla terza riga quando c'è più 0 volte t e lo togliamo quindi il tempo adesso lo posso cerchiare il tempo è presente da tantissime parti e la domanda è come faccio a trovare tutte queste quattro quantità ovviamente devo partire da una riga in cui io ho solo un'incognita e come si vede anche se sembra la più lunga devo partire dalla seconda impostando e quindi un'equazione di secondo grado posso ancora migliorare la storia perché devo fare le tonde devo fare un mezzo per meno 9,8 allora un mezzo per meno 9,8 fa meno 4.9 t quadro ok e niente allora io dalla seconda riga facendo un'equazione di secondo grado trovo t1 e t2 una volta trovato t1 e t2 dovrò vedere quale sarà accettabile e lo sostituirò nelle altre tre righe per trovare le altre quantità ricordiamoci che io ho chiesto il valore della gittata quindi la nostra incognita poi vera per il problema sarà sx andiamo a risolvere quindi la seconda riga la seconda riga se portiamo tutto a sinistra diventa 4.9 t quadro meno 8.604 t meno 12 uguale a 0 allora ovviamente t1 e t2 si trova con il delta muoviamoci quindi per trovare t1 e t2 allora per trovare t1 e t2 devo fare meno b quindi 8.604 più o meno b quadro quindi devo fare 8.604 alla seconda che fa 74.029 meno 4 volte a per c quindi a per c il tutto fratto 2a quindi 2 per 4.9 allora facendo velocemente i calcoli ma non troppo perché altrimenti non riuscite poi a stare dietro i calcoli calcolo il delta allora il delta viene quindi 309 virgola 229 fratto 2 per 4.9 e ritorna il nostro 9.8 allora la cosa interessante è che la radice del delta fa 17.585 e quindi otterremo due valori otterremo un tempo 1 e un tempo 2 allora ad esempio il tempo 1 l'otteniamo facendo 8.604 più 17.585 e questo risultato lo andiamo a dividere per 9.8 viene 2 punto 67 secondi il tempo negativo invece ho già fatto uno spoiler perché ovviamente facendo 8.604 meno 17.585 e dividendolo per 9.8 verrà ovviamente un tempo negativo e i tempi negativi in fisica non sono mai una bella notizia perché ovviamente noi vogliamo un'informazione dopo l'inizio dell'esperimento quindi ovviamente se vi viene un tempo negativo vuol dire che questa cosa è successa nel passato a cui noi non siamo interessati questo tempo non è accettabile e per fortuna no? il tempo quindi corretto è di 2.67 secondi questo cosa significa? la seconda riga mi ha portato come soluzione t uguale a 2.670 secondi e a me adesso non rimane altro avendolo trovato di sostituirlo nell'altra riga cioè ad esempio sx viene 12.287 per 2.670 secondi quindi la gittata che è sx viene esattamente di 32.806 metri in più ho trovato già la velocità x alla fine che è 12.287 metri al secondo questa rimane uguale mentre vado a sostituire sempre il tempo viene 8.604 meno 9.8 per il tempo 2.67 e risulta una velocità finale negativa che fa meno 17.562 allora quindi riassumendo il nostro lancio ha comportato che cosa? siamo partiti da un'altezza di 12 metri abbiamo fatto un moto parabolico alla fine sx quindi la gittata è stata di 32.806 metri il tempo necessario per andare dalla posizione iniziale alla posizione finale è stato di 2.67 secondi infine la velocità finale che è tangente alla parabola ha una componente orizzontale che è 12.287 metri al secondo e una componente verticale negativa che fa meno 17.562 metri al secondo infatti guardate abbiamo trovato 4 informazioni in un moto parabolico vettoriale si trovano sempre 4 informazioni possiamo quindi rifare l'esperimento per vedere se i dati che abbiamo ottenuto sono corretti lanciamo il nostro oggetto raggiunge l'altezza massima la velocità y diventa negativa fino a quando la y non arriva fra 0 e l'oggetto si sfraccia alla terra la domanda è quanto tempo ci avrà messo noi avevamo detto 2.67 secondi vediamo eccoci qua 2.67 secondi poi avevamo detto come x 32.806 che giustamente il simulatore approssima a 32.81 quindi perfetto e ovviamente l'altezza finale è 0 che